Oh, ma che c'hai? Perché non mi hai detto che tornavi a casa? Non mi potevi mandare un messaggio? Chi è quel ragazzo? Ma chi? Quello che ti ha accompagnato qua. Un amico. Pensi che sono cretina? Ma è un amico, te lo giuro. Credi che non ti abbia vista? Ma ha visto cosa? Perché menti? Ti sto dicendo la verità. Perché ti stai agitando? Perché mi stai facendo tutte queste domande. Adele, basta prendermi per il culo. Da quanto tempo te lo scopi? Io non mi scopo nessuno. Quante volte sei andata a letto con lui, Adele? Non sono andata a letto con nessuno. Adele, quante volte sei andata a letto con lui? Te lo giuro, non ci sono... Adele, dimmi quante cazzo di volte sei andata a letto con lui? Ci siamo baciati solo una volta. Però ero ubriaca. E non significa un cazzo. Non significa un cazzo. Adele, quante volte sei andata a letto con lui? Non sono stata a letto con lui, te lo giuro. Adele, basta prendermi per il culo. Io non ce la voglio una bugiarda in casa. Prendi e vattene. Vattene! Te ne devi andare, Adele. Prendi le tue cose e vattene fuori da casa mia. Vattene fuori da casa mia! Ok, siamo stati insieme solo due volte. Però è stata una cazzata, te lo giuro. È stata una cazzata? Credimi, per me non significa un cazzo quello. Sei innamorata? No! Ma che innamorata? Adele, vattene fuori da casa mia. Prendi le cose, sparisci, te le devi andare. Sei una puttana! Ecco che cosa sei, sei una puttana. Vai in macchina con lui, te lo scopi. Poi vieni da me, mi baci, mi tocchi. Ma come cazzo fai? Come cazzo fai? Mi dici un dato di cazzate! Mi dici un dato di cazzate! Sei una grandissima tro... Devi prendere. Ti prego, mi dici. Prendi le tue cose e vattene da casa mia. Devi sparire. Devi sparire! Te le devi andare da casa mia! Ti prego, mi dici un dato di cazzate!